Il presidente del circolo di Legambiente Frosinone, Stefano Ceccarelli, partendo dall'incendio della Mekoris, pone una serie di riflessioni sulle cause ultime per capire come evitare che altri rughi nella martoriata Valle del Sacco, come altrove, continuino a divampare compromettendo la salute delle persone e degli ecosistemi. Un fatto è certo, il ciclo dei rifiuti in troppe regioni italiane è al collasso e il Lazio è una di queste. Tra la differenziata che fatica a decollare per quantità e qualità, soprattutto nella capitale, i siti di stoccaggio perennemente stracolmi e perciò così vulnerabili al fuoco, gli impianti di riciclaggio che mancano, il tentativo di rispondere all'emergenza ricorrendo a soluzioni sbagliate, anacronistiche, come le discariche, gli inceneritori, fino ai treni dei rifiuti indifferenziati che viaggiano lungo lo stivale, i nodi di una pessima gestione che viene da lontano stanno drammaticamente venendo al pettine. Ciò che manca per Legambiente è una visione sistemica del problema rifiuti. A livello normativo è necessario procedere speditamente verso l'approvazione dei decreti sulla cessazione della qualifica di rifiuto, specialmente per la carta, le plastiche, gli pneumatici, così da aprire sbucchi commerciali alle materie prime, seconde, ottenute dalla trasformazione degli scarti. Dalle amministrazioni locali l'associazione ambientalista si attende che usino esclusivamente carta riciclata, bandiscano la plastica usegetta, usino la leva fiscale sostenendo l'apertura di esercizi commerciali alla spina e promuovendo campagne di educazione al consumo consapevole. Infine per Legambiente appare paradossale che ad opporsi a nuovi impianti di recupero siano così spesso propri movimenti e comitati che dicono di operare in difesa dell'ambiente. In particolare una moderna gestione della frazione organica, destinata peraltro ad avere un peso sempre maggiore man mano che cresce l'uso di imballaggi in bioplastica, non può prescindere dalla creazione di una rete di impianti per la digestione anaria obbica dell'umido, in grado di produrre nuova occupazione e di mettere in rete biometano, riducendo nel contempo l'uso di metano di origine fossile. Insomma, non è limitandoci a denunciare i crimini ambientali che potremo vincere le sfide dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, tuona Stefano Ceccarelli, che dice solo se riusciremo a creare consenso sulle soluzioni, costruendo percorsi di condivisione e partecipazione democratica, potremo finalmente superare quella sindrome, NIMBY, che non risolverà mai i problemi ma continuerà a spostarli più lontano nel tempo e nello spazio, finendo con il distruggere l'unico pianeta che abbiamo.